E tra i diversi bandi del piano regionale per lo sviluppo agricolo c'è quello per l'insediamento di giovani che possano portare nuove energie, nuove idee a un settore che, altrimenti, rischierebbe di non avere un futuro. Marco è tra questi. Se potesse chiederlo direttamente all'assessore, alla regione, quale aiuto concreto chiederebbe? Allora, innanzitutto iniziative come questa, proprio per fare una sorta di propaganda su quelle che sono le vicende che l'Europa sta preparando per noi giovani imprenditori. In secondo luogo metterei la rapidità dell'erogazione dei fondi, in quanto io come giovane agricoltore, ma anche altri colleghi, ci troviamo in un punto della vita dove bisogna fare delle scelte. Un aiuto concreto per proteggere la competitività degli agricoltori in Italia ci fa notare Mario, storico imprenditore della Piana di Venafro, dovrebbe arrivare, al netto delle risorse e dei bandi, da un cambio della politica di settore. Noi, 30 anni fa circa, abbiamo scelto di non essere OGM, cioè in Italia non si può seminare l'OGM, noi non seminiamo OGM ovviamente, però noi importiamo, ogni giorno importiamo prodotti OGM, quindi c'è una grande concorrenza sleale che ci fanno gli altri paesi, ovviamente, e noi dobbiamo subirla e ovviamente depreciare il nostro prodotto, cioè noi dobbiamo produrre a costi maggiori qualcosa, ovviamente, e poi metterli sul mercato e ovviamente vengono premiati quelli a costi minori. Ma nonostante le difficoltà, Marco ha deciso, il suo futuro sarà nell'agricoltura, una scelta che in Molise accomuna un numero crescente di giovani. A me piace il tema della resilienza, ovvero quella che ci tiene appunto in questi territori. Ovviamente le scelte sono molteplici, ma rimanendo in ambito, diciamo, familiare e portando avanti quella che è una tradizione, dunque, dalla quale nasce una passione, abbiamo io, insieme anche a miei fratelli, ma anche diversi amici, ci siamo ritrovati in queste idee, e quindi anche abbiamo colto al volo questa occasione di questi aiuti da parte dell'Europa.